Echidna, scheda e caratteristiche dell'animale si chiama echidna o formichiere spinoso, è parte integrante del gruppo dei tachiglossidi ed è un mammifero davvero inusuale, perché depone le uova. Le specie viventi attive sono quattro, le altre sono allo stato fossile. Questo animaletto rientra nell'ordine dei monotremi perché, appunto, depone le uova ma poi allatta i piccoli. Mammiferi inusuali dal sangue caldo e con il pelo che ricopre in buona parte il loro corpo. Sono di casa in Nuova Guinea, Australia e Tasmania e, come anticipato, sono noti come formichieri spinosi perché si cibano di insetti, larve, vermi e hanno il corpo ricco di peli manchi da aculei, una caratteristica che li accomuna i ricci. Completano la fisionomia zampe corte, testa piccola e muso lungo, molto stretto e appuntito per recuperare gli insetti dai fori o dalle cavità. Dalla bocca, priva di denti, fuori esce una lingua rapida e saettante. Grazie agli artigli sulle zampe corte, le chidna scavare velocemente con molta efficacia. Bewa e gli echidna Bewa e gli echidna Bewa e gli echidna Altre foto La riproduzione è molto particolare, perché gli organi sessuali sono contenuti in una cloaca, ovvero un'apertura unica che comprende i primi ma anche il dottorinario intestinale. Questa particolarità li affianca i rettili e agli uccelli, perché la cloaca contiene il pene che, nel caso dell'echidna, possiede quattro teste. Solo due funzionano e possono inserirsi nel tratto riproduttivo femminile, che a sua volta è biforcato. Non certo un procedimento facile e immediato ma che alla fine, dopo 22 giorni, porta alla produzione dell'uovo accolto nel marsupio materno. La nascita avviene dopo 10 giorni, il piccolo rimane al caldo nel marsupio per circa 50 giorni, dove riceve il latte della madre. La femmina non possiede mammelle ma zone del corpo dove sono localizzate le ghiandole mammarie e da cui fuori esce il latte. Successivamente, al momento della crescita degli aculei, il piccolo viene deposto in una tana dove la madre passa a nutrirlo ogni 5 giorni. Questo procedimento si ripete fino ai 7 mesi di età. L'animaletto riesce a sopravvivere a stento solo in Nuova Guinea. Anche se rientra nella lista rossa yukne come una specie a rischio minimo di estinzione, è sotto massima osservazione per via della cattura indiscriminata. Uguale maggiore di scopri l'echidna rimasto orfano, nella cultura australiana, questo strano animaletto trova spazio sulla moneta da 5 centesimi. Mentre nella mitologia greca l'echidna era una figura metà donna e metà serpente, con una particolare coda al posto delle gambe. Rinchiusa in una caverna, amava divorare i passanti e, per questo, trovò la morte per mano di Argo dai cento occhi. Sempre secondo la tradizione del posto, la figura mitologica ebbe tre figli mostruosi. Infine l'echidna è anche un pesce particolare, parte integrante della famiglia Murainidae, nota anche come morena stellata e ovviamente molto differente dal mammifero con gli aculei, con cui condivide solo il nome.